Cari amici ci troviamo ormai nella settima domenica tra l'anno e diciamo subito il tema che ci coinvolge in questa riflessione della parola di Dio lo possiamo formulare così la comunità cristiana è una comunità rivoluzionata dall'amore di cui il modello noi sappiamo è Cristo bene iniziamo come sempre siamo soliti con una preghiera di invocazione al Signore Padre Buono che nel tuo unico figlio Gesù ci hai rivelato l'amore gratuito universale fedele verso tutti noi donaci un cuore aperto perché possiamo comprendere anche noi essere capaci di amare tutti i nostri fratelli ma in modo particolare come dici tu anche i fratelli lontani coloro che ci sono nemici fa che il nostro amore si spinga fino ad amare il nemico e così ottenere le tue benedizioni su di noi su tutte le nostre famiglie Padre Buono donaci lo spirito per farci comprendere questa parola e portarla a compimento nella vita te lo chiediamo per Cristo nostro Signore ecco allora percorriamo le tre letture che praticamente sottolineano l'importanza che ha l'amore vissuto verso il fratello e persino verso il nemico così come ce lo insegna Gesù nella prima lettura il libro di Samuele ci presenta un episodio direi anche abbastanza noto il re Saul invidia profondamente Davide e lo vuole eliminare lo vuole uccidere e cerca di trovare tutte le occasioni per eliminare Davide ma ecco che un giorno Davide si trova in una necessità durante una notte e di fermarci dentro una caverna e dentro questa caverna proprio trova nel sonno Saul e quindi ha la possibilità di eliminare questo suo nemico e vedremo Saul invece all'odio risponde con l'amore corrisponde con la sua umanità ed è molto bello vedere le caratteristiche di Davide in tutto l'arco della sua vita Davide è stimato da Dio per la sua bontà per la sua umanità ma soprattutto per la sua giustizia e per la fedeltà verso Dio queste sono le grandi caratteristiche di Davide queste caratteristiche vedremo poi nel Vangelo sono le caratteristiche di Gesù Gesù è stato l'uomo mite ed umile di cuore ecco allora vedete una immagine di Davide simbolo di Cristo allora qual è l'insegnamento che ci viene da questo breve episodio del libro di Samuele è proprio questo l'amore al nemico va manifestato fino al perdono chi sa perdonare il nemico questo è colui che veramente ama questo è il vero cristiano questo è l'insegnamento che ci ha lasciato Gesù vengo subito alla seconda lettura Paolo nella prima lettera ai corinzi nel capitolo 15 ci presenta proprio Cristo l'uomo nuovo l'uomo che vive la vita donandosi e proprio per questo diventa l'uomo nuovo l'uomo risorto e Paolo però ci pone subito una domanda e ci dice proprio questo ma come risorgono i morti è chiaro che la risposta che Paolo dà è una risposta che mette in evidenza che noi non risorgeremo allo stato attuale di come ci troviamo adesso ma in noi ci sarà una trasformazione quando un giorno risorgeremo dalla morte ci sarà una trasformazione non saremo come siamo oggi quindi c'è una vita nuova che si apre e la fede ci aiuta proprio a comprendere questa grande trasformazione e Paolo usa questa immagine noi siamo solidali con Abramo perché abbiamo ereditato da lui la corruzione ma siamo solidali con Cristo perché abbiamo la sua vita la vita nuova ecco questa vita indefettibile quindi Cristo che è l'uomo nuovo l'uomo celeste questo è il nostro desiderio è l'uomo risorto noi un giorno saremo come lui risorti a una vita nuova e avremo il corpo glorioso come ce l'ha lui ecco vedete la trasformazione nuova che il cristiano avrà dopo la morte vengo subito al Vangelo Luca nel capitolo sesto ci presenta quelle che sono le condizioni della felicità l'uomo per essere felice deve praticare alcune condizioni e Gesù nel testo di Luca ce le presenta molto chiaramente perché anche Luca presenta quello che troviamo anche in Matteo il discorso il discorso della montagna dove ci sono delle esigenze radicali che a volte scuotono noi nella profondità del nostro essere fino a proprio questo amare il nemico ora amare il nemico se ci pensiamo bene ci imbarazza profondamente questo a volte stentiamo ad amare un nemico perché sentiamo tutto l'odio tutta la repulsione contro di lui eppure l'amore al nemico è il grande insegnamento che Gesù ci ha lasciato vedete oggi ci sono persone anche cristiane che in nome del Vangelo approvano la violenza approvano l'odio il cristiano non deve vivere così si supererà questo contrasto quando si crederà veramente alla legge dell'amore amando e servendo i fratelli noi viviamo nella verità e nella giustizia è quello che Gesù ci ha insegnato e allora vedete Luca ci presenta un piccolo codice di vita morale del cristiano che si riassume in quelle frase molto bella che c'è nel Vangelo ciò che volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo agli altri e poi a estende questa bontà verso fino ai nemici quando Gesù ci dice questo fate del bene a coloro che vi odiano benedite coloro che vi maledicono rendete sempre bene al male che vi fanno anticipate sempre gli altri senza condizioni perdonate senza chiedere nulla in cambio questi sono i grandi insegnamenti che Gesù ci lascia questo comportamento certamente contrasta a volte con qualcosa che è ragionevole dentro di noi ma noi dobbiamo entrare nell'amore di Dio allora comprenderemo pienamente che tutto questo è vissuto da Cristo ma c'è un esempio che Gesù ci lascia è un esempio profondo è proprio questo è l'esempio dello schiaffo del mantello del prestito e lo vogliamo leggere questo perché è un testo che ci illumina profondamente dice così a chi ti percuote la guancia porge anche l'altra a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica da chiunque ti chiede e a chi prende del tuo non richiederlo vedete la capacità della bontà cristiana è proprio in questo e poi termina questo insegnamento di Gesù con questo grande parola Gesù dice siate misericordiosi come misericordioso il padre vostro che è nei cieli questo è l'ingrande insegnamento che noi dobbiamo usare la vera misericordia è sul modello della misericordia di Cristo e quindi il modello infinito potremmo dire dell'amore è l'amore di Dio e allora possiamo concludere dicendo che attraverso questa imitazione di Dio noi soltanto attraverso questo ci possiamo trasformare in figli suoi fratelli di Gesù Cristo amati dal padre perché fedeli al suo insegnamento ti ringraziamo padre veramente di questa parola che è esigente forte che ci spinge fino ad amare il nemico ma è una parola che veramente ci libera e ci rende uomini nuovi come Gesù come il tuo figlio Gesù fa che la possiamo portare a compimento nella nostra vita e così realizzare quel messaggio di salvezza che tu ci hai indicato te lo chiediamo per Cristo nostro Signore Amen Grazie a tutti Grazie a tutti